Vediamo dove va Lucio. La mamma è occupata da Mosini. Vediamo Lucio dove va. Scusate le mie ciabatte, sempre lì. Presepe, tiragraffi, o cuscino nuovo rilassante. Scommettiamo, signori, signori. Dove andrà Luci? Dove andrà Lucino? Si accettano scommesse. Dove andrà Lucy? Sta guardando il tiragraffi, però la mamma ci ha messo sopra una copertina, quindi un po'... Oppure si sdraierà sulle mattonelle. Lucio, guardami, guarda che stai tornando carino. Dove vai? E Lucio sovverte tutti i pronostici. Lucio, hai già mangiato la pasta al malto qui? Qui c'è Mosini, Mosini il novizio, Mosini ciccio lucido, guardate. Mosini ciccio lucido, guardate che visoncino. Lucio, c'è Mosini qua, guarda come stai tornando bello. Faccetta tonda, amore. Amore mio, faccetta tonda. Non puoi venire qua. Vuoi venire lo stesso? Non puoi. Pasta al malto, l'hai già avuta, è lì. Vai, vai a fare una nanna. Vatta cucca, vai e vatte a cucca, come dicono a Napoli. Ci sono degli amici napoletani? Fra i nostri followers? Sarei proprio curiosa di saperlo, se ci sono degli amici napoletani. Lucio? La mamma aveva lanciato una scommessa dove se andavi lì, sul tiragraffi o nel presepe. Ma invece sei venuto qui. Guardate com'è carino. Fatti vedere, Lucio. E stai tornando carino. Adesso faccio un altro video.